Lai la 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 la, la 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 Adesso è il momento di pizzica con violino E' la pizzica suonata dagli incantatori di Tarante Ma c'è una sorpresa Ed è la speciale coreografia di Daniela Telespettatori, gli incantatori di Tarante Applausi Santo Paolo mio delle Tarante Fanne una grazia a tutti quante Fanne una grazia a tutti Faccio il correntino E' la storia a tutti E' la storia di Tarante E' la storia di Tarante Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.